La Delfest Avellino scalda i motori. Il club irpino di basket di patrono a Gennaro Canonico ha comunicato nelle scorse ore la permanenza del duo Paolo Rotundi e Antonello Nevola. Il direttore generale e il DS, o per meglio dire tecnico di mercato, hanno rinnovato il loro rapporto lavorativo con l'entourage irpino. Una notizia di certo importante per i tifosi della Delfest, perché il lavoro certosino del duo avellinese ha portato i suoi frutti, anche se i biancoverdi hanno strappato soltanto il play-out contro Forio alla salvezza. Ma la media punti, conquistata soprattutto nel giorno di ritorno e la qualità dei giocatori portati da Nevole a Rotondi, carenze e creda su tutti, hanno fatto la differenza. Per il fronte al rinnovo di Giovanni Benedetto invece siamo ai dettagli da rimare, soltanto una piccola differenza tra domanda ed offerta, mentre c'è da risolvere la situazione legata a Stefano Spizzichini. Il centro romano, infortunato sia nel match perso a Taranto, ha un contratto biennale con i lupi, attualmente ancora in città per le cure mediche, ed è previsto un incontro tra le parti nelle prossime settimane, per delimiare il futuro del giocatore capitolino.